Nella prima città della provincia di Cosenza, per la prima volta, dopo una lunga ed impetuosa scalata in crescendo di contagi, si registra una battuta d'arresto, ieri zero positivi. E' ancora in testa la classifica in tutta la provincia, tuttavia. Negli ultimi 30 giorni, 629 contagi e 19 decessi. Nel territorio rimangono zona rossa, crocia, acri e rocca imperiale. La macchina dei vaccini inizia a carburare. Nel weekend, durante il Vax Day, somministrate 2.300 dosi complessive. E' chiaro che la sfida è ancora alta, nel senso che abbiamo adesso la parte più corposa di popolazione. Ovvero sì, 70, 80, 60, dobbiamo vaccinare fino ai 20 anni. Quindi una campagna vaccinale che è molto complessa. Non ci siamo mai confrontati con una vaccinazione di massa di queste popolazioni. Uno dei punti sostanziali nella lotta al virus è la condotta dei cittadini e le regole da rispettare. Troppi contrasti in evidenza. Da un lato i negozi chiusi, dall'altro le piazze piene. La fase emergenziale resta, ma l'antidolo rimane il vaccino. Più persone sono vaccinate, meno il virus circola. Quindi è un discorso che si capisce di per sé. E meno circola il virus, meno variante si formano. Siamo molto fiduciosi, siamo messi bene. Abbiamo già vaccinato migliaia di persone. Nella nostra ASP siamo a oltre 130.000 vaccinati. Quindi 140.000 fra poco. Quindi diciamo che i numeri cominciano ad essere grandi.